Continua a rallentare la diffusione del contagio da coronavirus in Toscana. Sono 61 nuovi casi positivi registrati in 24 ore, per un totale di 9.292 contagiati. I guariti crescono dell'11% e raggiungono quota 2.802. I tamponi eseguiti fino ad oggi sono 137.482, quelli analizzati nelle ultime 24 ore 3.424. E si registrano purtroppo anche 16 nuovi decessi, 9 uomini e 7 donne con un'età media di quasi 82 anni. I deceduti dall'inizio dell'epidemia salgono a 827. La provincia con il maggior numero di casi positivi è quella di Firenze, 3.087, seguita da quelle di Lucca, 1.273 contagiati e di Massa Carrara, 993. Nelle stesse province è stato registrato anche il maggior numero di vittime. Scendono sotto i 5.000 i contagiati dal virus che si trovano in isolamento a casa e anche le persone isolate e in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con quelle infettate. Si riducono ancora i ricoveri nelle parti Covid e in terapia intensiva, raggiungendo il punto più basso dal 18 marzo scorso.